Amici di QDP News ci troviamo di fronte all'istituto comprensivo di Farra di Soligo qui in provincia di Treviso perché per raccontarvi un fatto alquanto strano che ci hanno segnalato, domenica questa è una delle sedi del voto sul referendum sull'autonomia del Veneto e qui fuori dovrebbe esserci già accampato uno strano individuo che sta attendendo appunto di poter entrare, di reccarci alle urne, di votare per il referendum di domenica e allora andiamo a sentirlo perché lo vediamo proprio qui in diretta accampato proprio fuori dai cancelli della scuola di Farra di Soligo buongiorno, buongiorno, lei è? Il suo nome? Abdul Abdul? Sì L'Abdul, ah ho capito, come mai è già qui accampato fuori dalla scuola per il referendum? Sì, io sono già qua perché ci tengo tantissimo 48 ore prima? Sì, mi sono portato tutto, sacco a pelo, beni di prima necessità e aspetto qua l'apertura dei seggi perché siccome è un dovere votare e domenica magari ci muoviamo tutti insieme, il traffico, il marasma, la ressa e magari ci spintoniamo tutti per entrare non voglio problemi e allora sono già qua che aspetto quindi teme una mobilitazione di massa per questo referendum, ma lì vedo cos'è, una damigiana quella di vino, il prosecco? Sì, ho detto beni di prima necessità Ah, quindi per lei insomma la damigiana è un bene di prima necessità, ma scusi, guardandola bene, lei mi sembra canale, il canale, è lei Ma lei mi offende signor giornalista L'influencer, canale, il canale Dice il canale, anzi mi stava anche simpatico, ma io faccio un appello all'influencer canale, canale, il canale mi hai deluso profondamente perché un video sul referendum potevi farlo, dico ma un video... Cosa fa? No! Allora, grazie, noi ringraziamo questo signore insomma che è già qui accampato e vi ringraziamo, Qdp News, continuate a seguirci sul nostro sito online Cosa succede? Cosa succede? Ma voi trattate anche casi di cronaca nera? Assolutamente sì, facciamo cronaca tutto il territorio E allora qua c'è stato un furto nella damigiana, è stata rubata Ma come? Ma chi è stato? E gli ascensionisti!